papà facciamo un saluto guarda guarda la minchia ciao ragazzi siamo in un nuovo video oggi ragazzi si gioca lo scudetto torino napoli sono qui con mio padre chef frango un cassio tremo la la pole ragazzi sono ben mi piace per come ci vedete al canale nonostante tutto siamo qui per sostenere il nostro napoli le informazioni ovviamente ne abbiamo viste su one football che vi invitiamo a scaricare nel primo link in descrizione quest'anno tra l'altro caro papà ci sono tante tante novità su one football gli arezi serie a serie b partite in diretta partite in diretta della serie c novità incredibili tutto in maniera gratuita su one football che vi invitiamo a scaricare in descrizione gratis detto questo dopo la sconfitta della juve forza è una bella partita tanti gol dicono verità vediamo tanti gol c'è fanno letto dai ma si vende ma accetto troppo importante e diamo c'è la foresta ma c'è la foresta attenzione a merotti sul primo che risposta di ospina parata ha fatto a spina e non ci vogliamo lo ha a spina fatto un paratone bravo 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 ma come siete chiesti osimè lecce osimè 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 ma come ci fai mai questa gola e gol c amma fa oddio cerca subito la draggera difficile e sbagliata ma come ci ha ma io sto a stare in me ma come ci sarai questo padre gol e gol e gol non fanno i gol io ho gol e gol o si mela ma mamma mio ma come ti fa più a madrid a te come ti fai a pigliare la giocazione a 200 euro? calmati frate ma come ti fai a pigliare la madrid? provi a te cacca fortuna annoiosa accoglie Pumarolo vero oggi ho bannato a frate per Palermo bannate bannate ma è che la serenità di giocciuta ahahahahah sai vuoi fare? ma è una finita vuoi sentire il motore? vai dai che corre il gol ahahahahah costretto vuoi mettere il faglio vuoi si mette fortissimo e questo è passaggio di buzi si scappa nuovo passaggio proprio sul tempo eh ma ne appoggia ne devo votare la red ma ne appoggia ne devo votare la red ma chissà appoggia se è ma red esaggiamo ragazzi è fiscato pure prima è fiscato pure prima è che è un genere spolito perché è troppo la partita che usa ci vediamo al secondo tempo 0 a 0 inizia il secondo tempo ma non si vuole andare in diamo chi sa vuoi eh vabbè 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 vai vai vabbè wow farlo di Rosy Mengo questo lo dira meglio altro a sinistra guarda ma che non lo so non lo so che faccio come un bacio non è imparato e fatti di scuola e l'ora a mezzo a te sinistra sul primo palo velotti ma voi che è lo stesso però se mette in un incrociato a mezzo pizzo no è valore valore ma basta hai ragione c'è passato non c'è fabio grazie fabio ma caccia fa ma caccia fai te con le gole e non piglio sei caccia faccio non prega sempre credibile e andiamo a 73 4 dalla 2 terzo posto lo sanno di tutto ragazzi sempre forza napoli ciao ragazzi